cosa succede dopo l'inoltro dopo l'invio della domanda puoi seguire il suo corso dalla home page di iscrizioni online nella sezione dedicata situazione domande ti riassumiamo gli stati che può assumere una domanda di iscrizione dopo il suo invio la domanda è inoltrata quando è recapitata alla prima scuola scelta che dopo la chiusura delle iscrizioni la prenderà in carico insieme a tutte quelle pervenute accettata quando la domanda presa in carico è accolta dalla scuola destinataria dell'iscrizione smistata quando in caso di indisponibilità di posti o in assenza dei requisiti indicati nei criteri di accoglimento delle domande viene inoltrata alla scuola indicata dal genitore come soluzione alternativa restituita alla famiglia solo durante il periodo delle iscrizioni 7 gennaio 31 gennaio quando la scuola restituisce alla famiglia la domanda già inoltrata o su richiesta della famiglia stessa o su iniziativa della scuola per integrare alcune informazioni mancanti una domanda restituita dopo le modifiche deve essere nuovamente inoltrata ricorda tutte le variazioni di stato della domanda saranno notificate via email agli indirizzi forniti nella procedura di registrazione